Allora, se mi ricordo che così è fatto, come questo è stato deciso, perché senza una di nessuna, l'assessore dice che ha risolto i problemi di società, quando usciva l'assessore che hanno preparato i problemi di talento, perché l'hanno fatto a talento, ha in qualche modo gestito la cosa pubblica. Voglio ricordare al consigliere pubblici che il messo a trovare sul passato e la sua ragia la doveva imilitare al senatore Castillo e non al consigliere non c'è una cosa. Com'è importante, ma sono sicuro che lo farà dopo adesso, al consigliere ci condizioni che, giusto, vedete cosa non è stata una coppia dentro il presidente provinciale del Partito Democratico, ma noi non possiamo chiamarci che un cassogano venga eletto in una grande posizione. Anche per lì, se qui non fatti, se le dà per un provinciale, c'è un senatore Castillo dell'Api, ci possiamo essere di tutto a fare il presidente del Partito Democratico, anche perché la differenza di Castillo, come questo sindaco, uno è il grande senatore Castillo Democratico. Voi vorrei ricordare al consigliere codice, che però è stato scritto da Franciari, lo dicevano al proprio libro, ma non lo vedo più, però vorrei ricordare al consigliere codice che io ho fatto a giusta ragione di prendere il consiglio condante, perché questo è una maggioranza che io ritenivo, una maggioranza opialica, ad un progetto politico, bastava lo stesso intervento che ha fatto Martino Unice per conservare la controlla, visto che questo intervento con c'è stato il presidente del Consiglio, Capri Occe, che è dimenso, non è che è stato raggiunto, che è dimenso, quindi quando io non ho avuto più accorto dell'obiettivo politico, non mi è tenuto qualcuno di intervento, perché c'era un posto di cosciente che era dimenso da quello che evidentemente ora tu invece puoi sostenere con la sua humana politica, quella che va con le altre scuole al Pianchi, dove è tagliato i posti per la nostra gente, dove è salvato il comune da distretto finanziario, dove è fatto per tre anni, tre Lugia, nulla di tutto questo che sono fatto oggi. Detto questo, perché vuoi parlare, siamo tutti imparati a fare queste unge, orazioni, e invece basta dire una loro magica, vediamo il potere della gente, noi dobbiamo solo pensare, noi dobbiamo solo pensare perché quello che ti stude il partito, su Lugia, ma tu vedi che si forria, questo partito di te, mentre che i miei loro Lugia ci stiano sempre in corruzione strane, tra le soli, c'è un po' tutta la storia, questo è un po' giocato, chi è sfuggito forse in questi ultimi pentadini, che l'hanno fatto sui interessi nelle Ligia, chi è sfuggito? No, lo sai che non ricordi, l'altro è detto, è strano, io ho detto che a tutti i matti nuovi, ma anche il problema, capo io dice, che io ero consiglio comunale, e non consiglio comunale, sciocco, l'invitazione che ho vinto, è una superiore cosa, e questo lì, è proprio il bel titolo, ma questo cosa significa, capo io dice, rispetto a la probabilità di ciascuno di noi, che ovviamente, ognuno risponde nel proprio partito. Quindi, io ti dico, sotto questo domino, se tu pensi che ci stiano i bandanti che stanno muovendo e così via comunale del partito di 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 di partito 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 di part Allora, noi abbiamo fatto un regolamento, il primo atto che è stato fatto dal Presidente del Consiglio, che si diceva, tu guarda qui, spendi in più, la relazione. E con un regolamento, il primo atto che è stato fatto dal Presidente del Consiglio, il primo atto che è stato fatto dal Presidente del Consiglio, che ha avuto un regolamento. La nostra tecnica del Capo Spiegel ha parlato di una comunità, perché prendendo il Consiglio, allora la sua legge, ha presentato un articolato regolamento che riguardava con diunità in tre cose, la sua posizione, la sua posizione, che tra l'altro, che tra l'altro, che tra l'altro, lei si avvia all'interno della maggioranza. Quello stesso, se lei ci dispende, c'è da fare di votare il Consiglio Comunale, noi siamo contenti, dato che il Presidente verrà la prima cosa che ha fatto è stare in destinare lo Stato Presidente. Se lei ci dispende, se lo rinforza, prendendo la legge, e continuamente fa una battaglia seria sull'attenzione del debut, come lei ha avuto dire, con la divisione e gli assessori che vi dicevo, rispetto al numero delle condizioni, lei mi fa una grande contestia, perché io ho bisogno di tenermi tra quei banchi, e questo è quello che le vuole sapere, ho bisogno di tenermi, e questo è un consiglio, lei non lo contatta, che si fa veramente le differenze della legge, e le voglio dire solo a un senso, perché, e ora che cosa si parla, nel confronto del discorso sull'attività, io ho già fai il senatore Castiglione, e ho commentato l'incontro, letto sull'attività, tanto è che, io dicevo al senatore Castiglione, dicevo, ma dove mi ha avuto, come è preso, ho visto, non lo so che va, e lui, non so, ma, non lo so, mi manco solo a quello del principio, diciamo che, allora c'era il condizio, e quindi, in quel confronto scritto, dove noi, e io stiamo a due amici, ci mangiavamo le mani, dopo tre anni, non so, ma che aspetta così, da questo personaggio che, ma è così, non lo ha a terra, non lo ha a terra, non lo ha nulla, non gli dice, che cosa ha combinato, e noi c'è, allora io faccio un po' non abbi all'attività oggi, io lo faccio un po' che, c'è andato a perdere le mani ma è sicuramente andato molto meglio se deve essere corretto grazie